Il mondo diventa ogni giorno più strano. Meglio concentrarsi sul mio dipinto. Sto lavorando a un ritratto di donna. Mi ci sto affezionando. Non lasciare che una bella donna ti distragga dalla realizzazione dei miei progetti. Non temere. Per me le donne non sono una gran distrazione. Eh? In che senso? Aspetterò qui intorno per un paio d'ore nel caso cambiassi idea.